E salve a tutti ragazzi, sono Peppe Giorgineverse e siamo nella quinta parte di Minecraft Ma ragazzi, direi di continuare la nostra esplorazione che avevo già incominciato a fare l'ultima volta però la vorrei continuare Così ce la facciamo giusto in tempo Allora, spero di partire Direi di fare un po' di carbone Di metterci a posto Eh di carbone Di farci un po' di qualcosa per mangiare La ciotta, la ciotta Lo si va bene così Lo si mettono qua Anche questo E va bene, lo si mettono qua Allora Ah, sto capirando Tu, vedi qua Mettiti qua Mettiti qua E tu mettiti qua e partiamo Eh sì, possiamo andare Aspettate E partiamo Allora Vediamo Un po' Una volta c'è un foglio qui Adesso Adesso Continuiamo la nostra esplorazione Dove eravamo rimasti Mi ricordo l'ultima volta Che eravamo rimasti Mi pare Qua No, l'ho qua Vabbiamo un po' più avanti Un attimo Eravamo rossi Dove eravamo esplosi Dove è successa tutta quell'esplosione Catastrofica Oh, attenzione Via Passiamo per di qui E Continuiamo la nostra esplorazione A parte che mi sono scordato la mappa Ma il nostro villaggio è qui E noi continuiamo sempre avanti Con un'altra volta Tanto io A volte mi ricordo Alcuni punti di riferimento Che sembra che me li scordo Però poi Mi vengono Il mente Ragazzi Direi di Uccidere qualche Maiale Così Un'altra Carmela Ok Poi ragazzi Ve lo ripeto In questi giorni Porterò Più video Dato Che è finita tutta la scuola Non tengo più problemi Adesso direi Di Andare un po' A esplorare Scusate E Direi di Provare a farci Uno polticello Verso di là Tra l'altro Raccogliamo anche Questi qui Ci servono per decolazione Raccogliamo per culo Sono molto belli Molto belli Molto belli L'acqua che ci rallenta L'altro più dietro Abbiamo Ok L'abbiamo presi Otto Abbastanza Poi Poi raga Avviamoci Per di qua Vediamo anche se Troviamo Uno spoiler Scoperto Che c'è qui Attenzione No Cavolo Siamo caduti Vabbè Già che ci siamo Scaviamo Il ferro Dobbiamo Oh attenzione Qui Pa E pa Allora ragazzi Direi di Fare In questo modo Troppo qui Poi Vi ricordo Le Sincronizzazioni Per dove Siamo andati E la prossima volta Che andremo in Bigliera Scaveremo Anche Da queste parti Se non Abbiamo finito Tutto Qui E Possiamo Un attimo Continuare All'andare Verso di qua Marciamo Un attimo Ok Continuare All'andare Ultimo Forse Che posso Salire No Peccato Io Eccoci qua Ce l'abbiamo Fatta E Pa Ragazzi Non so Proprio Dove Ci troviamo Io direi Di continuare Da quest'altra Corte Un attimo Che Adesso Ragazzi Forse Non mi sentirete Bene Perché Non c'ho Voce Oggi Però Una Bella Notizia Forse Nello stereo Vecchio Di mio padre C'è Sia Un Microfono Per sentire Sia Delle Nuove Cuffie Quindi Sentiremo Meglio Ma tra l'altro Lì ci sono Delle Zucche Che dite Le andiamo a prendere Sì Scusate Se sentite Un po' Di casino Però Sono C'è C'è Gendo Ci sono Ospite C'è Cosa Via Quindi Allora Vediamo Che lì C'è Anche Un Buchino Per Una Miliera Credo Tanto Noi Saliamo Qui Non ci Freghiamo Delle Miliere Perché La cosa Più Importante Del Loro Che Cos'è Le Zucche Mi Ricordo Ah Giusto Scalano Con Ok Ci siamo Ho raccolto Delle Zucche Un attimo Vediamo Come è Bello Perché Non l'ho Visto Ancora Quando Ti metti La zucca Nell'ultimo Aggiornamento Come si Vede Aspetta Mettivi La zucca Guardate Che Figata Wow Che Figata Raga Che Figata Assurda Vediamoci Questo Ci serve Solo Per Genderman E Continuiamo Ragazzi Continuiamo Allora Fatemelo Fare un attimo Il conto Per In 15 Minuti Allora Dire Di non Scendere Proprio Qui Perché Sennò Ci Facciamo Molto Male Vediamo Un Po Di Verso Di Se C'è Qualcosa In Questo Oh Guardate Qui Il bug Della Luce Che Pare Guardate La mia Panna Le Vespale Questo Guardate Tutto Così Se Abbiamo La Torcia Guardate Non si Vede Cioè La Torcia Scompare Poi E Però Che Cazzo È Successo Però 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 Niente Ragazzi Direi Che La Nostra Esplorazione Per Oggi Finisca Qui Però Vorrei Fare Un'esplorazione Anche Durante Il Ritorno Per Dover Un attimo Uccidere Qualche Animale Perché Sono Qui Mezz'ora Solo Per Ritornare Non ce La Voglio Mettere Allora Te Non Poi De La Vaggiano Ok Sta A Posto Andiamo Ad Uccidere Questi Magliorazzi Fuori Uno Ci Dà Ben Tre Costumette Di Carli E' Benissimo Fatto Qui Uccidiamo Gli altri Due Questi Inbrezzano Uccisi E Uccisi So Vabbè Benissimo Direi Di Ritornare A Casa Mettere Giusto Una Torcetta Qua Vicino Al Lago Di Quando Ci Ritorniamo Vi Ricordo Che Ci Siamo Venuti Qui Ma Direi Di Prendere Quest'altro L'ho Preso Continuiamo A Salire Ancora Dobbiamo Salire Quando Siamo Scesi Direi Ancora Ancora Per Fare Delle Decorazioni Antica Adesso C'è Un piccolo Problema Il 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 Fatto Che Non Mi Ricordo Ah Sì Vero 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 Adesso Mi Ricordo Dov'era Casa Allora Mi Ricordo Che La Casa Era Per Di Qua Per Di Qua Attenzione Sì Mi Ricordo Questa Gran Salita E Mi Ricordo Anche Questo Raghetto Dove Avrò Preso I Fatti I Come Diamo Si Chiamano Le Decorazioni Ah Via Via Attenzione Qui Ci Uccidono Piazziamo A volte Delle Torce Ci Incono La Raga Facciamo Delle Torce A Cosa Così In modo Che Ci Ricordiamo La Strada Un Pollo Dovevamo Salire Per Di Qui Mi Ricordo Bene Attenzione Verso Di Qui Attenzione Lo Zombie Attenzione Ci Ha Fatto Lo Sbalzo Critico Fortunatamente Teniamo L'armatura Di Ferro Attenzione Scegliamo Per Di Quello Freghiamo Attenzione Verso Di Qui Sempre Lupo Che Cavolo Fai Perché Non mi Proteggi Poi Raga No Dove Cavolo Siamo Non mi Ricordo Niente Raga Oh Fuck Attenzione Ah Sì 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 No Un attimo Uh Abbiamo scrivato Per poco Il creeper Quanti creeper Ci sono In questo mondo Vero Non so neanche Il perché Oh No Non corre Più Non corre Più Non corre Più Attenzione Attenzione Via 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 No 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 Cavolo Raga Il cazzo Di sabbia Siamo Vicini Siamo Vicini Attenzione Corri 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 No Raga Vabbè Raga Direi Che Per Questo Video È Tutto Iscrivetevi Al Canale Per Continuare a portare avanti Attenzione Non vediamo tutto adesso Come stiamo dicendo Iscrivetevi Per continuare a portare avanti Il nostro Bellissimo Canale Lasciate Un commento Lasciate anche Un bellissimo Like Se volete E Via 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 Cavolo Questo ci fa Un sbaglio Critico Attenzione Via Di qua Di qua E Ragazzi Quindi Questo Vede tutto Intanto Io Vi riparo Qua Non vediamo La prossima Volta E Al prossimo Video 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 Grazie.